Ciao, sono Carlo, sono di Vitovaro e stiamo organizzando questa manifestazione. Io l'ho iniziata per il gioco con mio figlio nel 2008 e abbiamo partecipato da popolo e da lì fino ad arrivare al principale attore che è Gesù, che interpreto dal 2016. Anche questa è nata per gioco perché ci siamo trovati in difficoltà come associazione, hanno deciso di scegliere me, io inizialmente ero un po' imbarazzato, però poi ho preso la palla in balzo e ho cominciato a studiare, c'è abbastanza preparazione, alcuni mesi prima della cerimonia iniziamo le prove. Io personalmente studio attraverso il film originale di Gesù di Nazareth e di Zeffirelli, studio tutte le parti, tutte le tracce che noi poi andremmo a fare in piazza San Pietro, il venerdì santo la sera. Ci vuole una bella organizzazione, però con l'impegno che diamo tutti quanti si riesce a fare una bella cerimonia. Arrivederci a tutti, vi auguro una buona visione, vi aspettiamo venerdì sera 15 aprile ore 21, 21 e 30 a Vicovaro. Grazie. 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 Grazie.